Martedì 30 gennaio 2019 Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di oggi con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali iniziamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi partiamo dal centro, ovviamente la notizia principale riguarda le candidature per le politiche le elezioni del 4 marzo, ieri si è chiusa la corsa alla presentazione delle liste dunque liste ufficiali con novità, sorprese e anche conferme vedete il titolo di apertura dell'edizione di Pescara ma anche di tutte le altre edizioni anche lo vedremo del messaggero del quotidiano La Città tutte le liste in Abruzzo, ufficializzati i nomi, gli esclusi eccellenti e i colpi di scena vedete questo il titolo di apertura poi all'interno del giornale vedremo nomi, novità e esclusi eccellenti perché ce ne sono diversi e poi invece la fotonotizia che riguarda la partecipazione dei volontari della Croce Rossa della sezione di Pescara che sono stati in Vaticano vedete la foto, una grande emozione per gli iscritti alla Croce Rossa italiana che hanno raccontato proprio l'incontro con Papa Francesco e poi ancora il voto del 4 marzo Ammiraglio Veri, Grana, Movimento 5 Stelle via la candidatura Ammiraglio che era stato inizialmente candidato con il Movimento 5 Stelle poi si è scoperto che è consigliere comunale ad Ortona e poi centrodestra Di Stefano Fuori ora punta alla Regione uno degli esclusi eccellenti Fabrizio Di Stefano escluso da Forza Italia per le prossime elezioni politiche poi nelle cronache a Pescara Mercatino Etnico si del consiglio tra le polemiche e poi smog alle stelle superati i limiti da tre giorni in città e poi laureati beffati mai consegnata la pergamena e poi una notizia della serata di ieri il giovane trovato senza vita nella Pineta al confine tra Pescara e Montesilvano è stata disposta all'autopsia dovrebbe trattarsi quasi certamente di decesso per cause naturali ma sono in corso gli accertamenti l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro oltre al titolo che riguarda le elezioni vediamo le altre notizie a Chieti mille studenti in corteo scuole pericolose, nessuno interviene e poi a Lanciano naso rotto a scuola esposto dei genitori e poi all'ospedale di Chieti medicina scoppia, 11 letti in corridoio, periodo contrassegnato anche dall'influenza che sta caratterizzando questi giorni anche nella nostra regione e poi minacce vicini con il fucile giovane di Chietiscalo condannato a una pena di tre mesi e poi menna e pupillo tribunali uniti così li salviamo torna preponderante la questione dei piccoli tribunali anche nella nostra regione Lanciano e Vasto si uniscono per cercare di salvare proprio i due tribunali e poi il calcio sarà commissariato fumata nera ieri in FIGICI pallone nel caos non passa la linea dell'abruzzese Gabriele Gravina ora tocca al CONI decidere probabilmente sarà proprio il presidente del CONI Giovanni Malagò a essere nominato commissario della federazione italiana gioco calcio siamo alla prima pagina del centro edizione di Teramo e vedete la fotonotizia che riguarda il calcio lo sport perché è stato presentato ieri il nuovo direttore sportivo della formazione bianco-rossa si tratta di Sandro Federico qui serve entusiasmo queste le prime parole del neo DS bianco-rosso che vedete nella foto sorridente con il presidente Luciano Campitelli vediamo anche le altre notizie nel Teramano all'arma e lavoro persi 9.000 posti in 8 anni e poi Isola del Gran Sasso altre scritte razziste contro i migranti in Val Vibrata si scatta la multa per i furbetti dei rifiuti e poi un'altra notizia che arriva da Teramo cade e muore in ospedale aveva appena fatto una radiografia parte l'inchiesta andiamo avanti per vedere l'edizione del centro di L'Aquila Vezzano e Sulmona il 91enne Pietro ultimo custode della frazione di Santa Lucia Alto Aterno terremoto un anno dopo paesi ormai completamente svuotati l'Aquila menza sfollati la Corte dei Conti cita 4 persone poi Sulmone il nuovo vescovo sarà accolto dal nunzio apostolico l'ordinazione episcopale di Monsignor Michele Fusco in particolare e poi Valle Subequana gli agricoltori Cervi e Cinghiali la nostra rovina e poi ci spostiamo nella Marsica fanno esplodere la cassaforte Avezzano Tre Ladri assaltano Leni e portano via 15.000 euro andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero lo vedete il titolo principale riguarda le elezioni la carica dei candidati politiche Chiodi e Di Stefano esclusi eccellenti da Forza Italia il primo si schiera con noi con l'Italia Movimento 5 Stelle si insabbia con l'ex ammiraglio Veri eletto in comune non poteva essere presentato e poi vedete al voto un esercito di piccoli e piccolissimi e poi il caso gli industriali più semplicità e rapidità nei pagamenti queste le richieste della categoria ai partiti in vista delle urne la richiesta in particolare di Confindustria del presidente regionale Agostino Ballone che vedete nella foto in piccolo e poi andiamo a centropagina il vigile assenteista condannato dalla Corte dei Conti Pescara l'ex maresciallo Solari dovrà versare 27 mila euro al municipio e poi Chieti massacra la madre a colpi di sedia il ragazzo allontanato da casa dai carabinieri e poi in basso ad Avezzano ritroviamo la notizia che abbiamo anche visto qualche istante fa sul centro Bancomat esplode con la bomba a gas andiamo a vedere anche in alto i titoli che riguardano in particolare lo sport rugby l'Aquila si rinforza con l'inglese Tristan Grant e poi Serie C Teramo Federico il nuovo direttore sportivo presentato ieri allo stadio Bonolis più tardi vedremo anche il servizio proprio sulla presentazione del neo DS Serie B Pescara Macin ha firmato Mancuso 2 milioni dalla Juve super offerta dei dirigenti e bianconeri per l'attaccante del Pescara che resterà in riva all'Adriatico fino a giugno fino al termine della stagione siamo al quotidiano la città muore dopo un esame radiologico vedete il titolo principale 56enne stroncato da un malore sulle scale dell'ospedale Mazzini aperta doppia inchiesta da ASL e Procura per capire quello che è accaduto e poi vedete a centro pagina Stefano Accorsi questa sera in scena al teatro Ricitelli a Teramo l'inorinonia di Ariosto e c'è l'intervista all'interno del giornale proprio all'attore Stefano Accorsi e poi la cronaca restate due bande di ladri nel mirino le case vacanza e i depositi alimentari e poi colpo di scena il patto tra Quagliariello di Dalmazio e Sottanelli rimette in corsa Gianni Chiodi che si è candidato con Noi con l'Italia e poi Camera e Senato tutti i candidati su Teramo e a proposito di Teramo ma di Teramo Calcio in questo caso vedete in basso inizia l'era di Sandro Federico subito a Milano al Calcio Mercato di essere presentato e subito partito per la Lombardia per prendere parte alle ultime ore gli ultimi due giorni di Calcio Mercato lasciamo i quotidiani abruzzesi le prime pagine di Centro Messaggero e il quotidiano la città andiamo a vedere l'edicola nazionale partendo dal Corriere della Sera anche sui giornali nazionali ovviamente si parla di elezione la mappa dei candidati vedete anche sul Corriere della Sera sfide di Maio Sgarbi e boschi biancofiore e poi in Germania cavie umane per il diesel inalavano gas di scarico condanna della Merkel i produttori indagheremo i test finanziati da un centro ricerche sulla saluta creato da Volkswagen BMW e Daimler e poi in famiglia la figlia dell'ex iridata Fiona May record nel salto in lungo i 15 anni d'oro di Larissa che batte mamma Fiona vedete nella foto scusate madre e figlia siamo a Repubblica Movimento 5 Stelle il passo falso sui candidati vedete il titolo di apertura del quotidiano Repubblica Di Maio lancia l'ammiraglio Abruzzè Severi poi lo esclude Firenze contro Renzi schierato un ex PD il segretario Dem Renzi appunto dice ho fatto come gli altri Orlando Critico Salvini indico io il Premier questa la dichiarazione del leader della Lega e poi vedete l'immagine Diesel Upgate Dieselgate l'università test con cavie umane furiosa la Merkel da Repubblica passiamo al quotidiano Libero gli statali non fanno un tubo i privati si uccidono di lavoro le due Italie scrive Libero siamo il paese d'Europa dove i dipendenti pubblici hanno l'orario settimanale più breve in compenso autonomi partite IVA e operai sono tra i più stacanovisti di tutta l'Unione Europea e vedete a furia di riabilitarlo lo faranno santo pure la sinistra inglese ora dice che Silvio è il meglio si parla di Silvio Berlusconi sarà perché non può candidarsi questa la domanda che si pone Libero e siamo alla prima pagina nazionale del messaggero liste chiuse vincitori e vinti completate le candidature contrasti sugli esclusi ovviamente non mancheranno nei prossimi giorni nelle prossime ore le polemiche e poi anche sul messaggero ritroviamo la notizia che arriva dalla Germania usate cavie umane per i test sui gas il dieselgate tedesco e poi il calcio la crisi della Roma Roma in crisi minacce a pallotta stop ai giocatori sotto la curva la sconfitta casalinga con la Sampdoria ha fatto esplodere la crisi in casa giallorossa siamo al tempo nome per nome ecco tutti i candidati l'elenco completo del quotidiano romano in vista delle elezioni e poi il fatto quotidiano ambiente azzerati i poteri delle regioni vedete in alto non solo Trivelle per decreto deciderà tutto il governo e poi a centropagina le promesse non spostano voti ai partiti non crede più nessuno scrive il fatto quotidiano c'è un sondaggio di Antonio Noto Di Maio guida la classifica dei leader più credibili Di Maio il leader del Movimento 5 Stelle e siamo al mattino di Napoli ecco le liste l'ira degli scontenti un po' dovunque ovviamente gli esclusi polemizzano con i rispettivi partiti di appartenenza e poi anche sul mattino vedete la figlia d'arte la figlia di Fiona May che batte la madre Larissa Iacchipino durante le prove del salto in lungo dunque una campionessa in erba che potrebbe regalare grandi soddisfazioni all'atletica e allo sport italiano e poi il calcio nel caos vincono le schede bianche figici arriva il commissario e molto probabilmente sarà l'attuale presidente del CONI Giovanni Malagò solo le 24 ore maxi centri per l'innovazione in arrivo 40 milioni di risorse pubbliche altrettanti dai privati più partnership tra Atenei e imprese al via il bando legato a Industria 4.0 quattro anni di aiuti alla ricerca e poi siamo alla stampa di Torino elezioni sfide dimezzate nei collegi nessuno scontro diretto fra i leader 5 stelle due ex PD imbarazzano Di Maio e poi la sconfitta del governo del calcio fallisce la trattativa per il nuovo presidente arriva il commissario e dunque dopo i problemi in Lega anche i problemi in FIGC siamo al giornale liste chiuse il giorno titola il giornale degli psicodrammi caos Movimento 5 Stelle candida un ex renziano e un ammiraglio vicino al PD e dunque ci sono polemiche e poi Germania cavie umane gasate col diesel case automobilistiche nella bufera in Germania andiamo a vedere anche il quotidiano La Verità Renzi è un piano per perdere senza rinunciare al governo si gioca tutto nei collegi del sud scrive La Verità e poi vedete questa fotonotizia centro pagina torna Mussolini un autogol più che un film scrive il quotidiano La Verità e poi a quelli che sbarcano insegniamo a giocare in borsa progetto di Senato e Banca Italia per educare gli immigrati alla finanza andiamo a vedere anche il manifesto le liste a sorpresa di GPD e Movimento 5 Stelle l'ex Renziano con i grillini l'ex forzista con i democratici e poi vedete modello tedesco dopo lo scandalo Dieselgate nuova bufera sull'industria automobilistica made in Germany dalle aziende cavie umane e scimmie per studiare gli effetti benefici dei gas e di scarico il premier tedesco Angela Merkel pratiche inaccettabili Volkswagen Mercedes Daimler e BMW danno la colpa agli scienziati e vedete che c'è questa foto con dei tubi di scappamento di auto ma questa vicenda sta creando davvero molte polemiche il secolo d'Italia ma è più un monti si parla ovviamente delle prossime elezioni e del diktat vedete con nella foto a sinistra del leader della Lega Salvini siamo al secolo XIX il quotidiano di Genova liste la carica dei candidati toti a forza Italia metodi poco democratici Orlando a Renzi troppi fedelissimi dunque non mancano le polemiche all'interno dei due partiti e poi vedete anche sul quotidiano torinese shock in Germania cavie umane nei test sui gas di scarico delle automobili e dunque ci saranno e ci sono ancora polemiche per questa vicenda siamo al quotidiano della CEI avvenire la rissa delle liste così titola il quotidiano cattolico nel PD Orlando contro Renzi un caso nel Movimento 5 Stelle Forza Italia e Lega divise sulle larghe intese e poi l'Italia soffoca e riscoppia il dieselgate inquinamento si parla della problematica che riguarda molte città con i livelli di polveri sottili molto alte e poi dello scandalo scoppiato in Germania del dieselgate venire l'ultimo quotidiano nazionale che prendiamo in esame possiamo tornare al centro ripartire con diverse pagine da analizzare insieme per quanto riguarda il voto vedete Abruzzo verso il voto del 4 marzo l'esercito di 180 aspiranti parlamentari presentate 12 liste principali tra cui due coalizioni ora tocca alla commissione elettorale pronunciarsi sulla regolarità e vedete Abruzzo verso il voto del 4 marzo D'Alfonso e il PD Blindano i Renziani sparite le paracadutate Annibali Morani e Serracchiani e Camillo D'Alessandro prenota un biglietto per Roma ovviamente non abbiamo il tempo per leggere tutti i nomi di tutti i candidati possiamo però vederne qualcuno insieme centro-sinistra collegi uninominali alla Camera l'Aquila candidata Lorenza Panei Teramo Sandro Mariani Pescara Antonella Allegrino e a Chieti Antonio Castricone possiamo vedere andando ad ingrandire la pagina questi nomi e poi collegi uninominali al Senato Pescara Federica Chiavaroli L'Aquila Massimo Cialente l'ex sindaco vedete poi proporzionali alla Camera in Abruzzo Camillo D'Alessandro poi Pescara Chieti Vasto Susanna Cenni Alessandro Marzoli Roberta Marulli e poi all'Aquila Stefania Pezzopane L'Aquila Terra Muavezzano Dino Pepe Lorenza Panei Luciano Monticelli proporzionali al Senato vedete in basso Luciano D'Alfonso Cristiana Canosa Gianluca Fusilli Emanola Di Pasquale vediamo anche qualche altra notizia Carlo Troilo con la Bonino e la lista più Europa c'è anche il figlio di Ettore Troilo fondatore della gloriosa Brigata Maiella tra i candidati e corre con la lista Bonino e poi insieme con D'Ambrosio anche il giornalista Panara e poi Chiavaroli con la Lorenzin la senatrice uscente una scelta dice di coerenza vediamo l'altra pagina in questo caso il centrodestra Forza Italia di Stefano va a ruota libera lo sfogo del deputato rimasto fuori dalle liste mi hanno escluso perché non accetterò mai un accordo con il partito democratico vediamo allora i nomi almeno quelli più importanti collegi uninominali alla Camera L'Aquila Antonio Martino Teramo Lucrezia Rassicci Pescara Guerino Testa Chieti Emilia Di Matteo Vasto Enrico Di Giuseppe Antonio collegi uninominali al Senato Pescara Antonella Di Nino L'Aquila Gaetano Quagliariello e poi i proporzionali alla Camera Abruzzo 1 Gianfranco Rotondi poi Pescara Chieti Vasto con Tiziana Magnacca Filippo Arbore Deborah Comandi Abruzzo 2 con Paola Pelino poi collegio di L'Aquila Teramo Avezzano con Guido Quintino Liris Rita Ettore Antonio Del Corvo proporzionali al Senato Abruzzo collegio unico Nazario Pagano Antonella Di Nino Carlo Masci e Consuelo Di Martino vedete in basso poi Noi per l'Italia di Sottanelli rimette in corsa l'ex presidente della regione Gianni Chiodi che dunque è candidato con Noi con l'Italia Fratelli d'Italia Guerino Testa attrae i voti degli ex AN di Pescara e poi Lega Bella Chioma Orgoglioso della 26enne Lucrezia Rassicci 5 Stelle svelano gli ultimi sette nomi vedete collegi uninominali alla Camera L'Aquila Giorgio Fedeli a Teramo Antonio Zennaro a Pescara Andrea Colletti a Chieti Daniele Del Grosso a Vasto Carmela Grippa collegi uninominali al Senato Pescara Primo Di Nicola ex direttore del Quotidiano il Centro L'Aquila Emanuela Papola e poi proporzionali alla Camera Abruzzo 1 Gianluca Vacca poi Pescara Chieti Vasto Daniele Torto Andrea Colletti Sara Stenta Abruzzo 2 Valentina Corneli e poi collegio di L'Aquila a Teramo e Devezzano con Fabio Berardini Carmela Tomassetti e Giorgio Fedele proporzionali al Senato Abruzzo collegio unico Gianluca Castaldi Gabriella Di Girolamo Stefano Murgo e Cinzia Deramo andiamo ancora avanti verso il voto del 4 marzo prima grana per il Movimento 5 Stelle via l'ammiraglio Rinaldo Veri già consigliere Ortona costretto a lasciare Di Maio presenta i candidati con noi il meglio dell'Italia dice Di Maio attenzione Dem Orlando attacca ma noi per fare il punto sulle candidature possiamo andare a vedere il servizio curato da Alfredo Primante i giochi i giochi sono fatti le candidature per le prossime elezioni per il rinnovo dei due rami del Parlamento fissate per domenica 4 marzo sono state consegnate alla Corte d'Appello di L'Aquila nel centro-destra esclusioni eccellenti ai nomi già fuori la scorsa settimana Gianni Chiodi Paolo Gatti e Antonio Razzi ieri sera si è aggiunto quello di Fabrizio Di Stefano il deputato teatino si è dovuto fare la parte per permettere la candidatura del sindaco di Pratola Pelligna Antonella Di Nino rinnovamento questa la parola d'ordine usata dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano incalcia la nota che ufficializza i candidati per l'uninominale alla Camera nel collegio Aquilano ci sarà la novità dell'imprenditore pescarese Antonio Martino di Forza Italia a Teramo è candidata Lucrezia Rasicci della Lega a Pescara Guerino Testa di Fratelli d'Italia che l'ha spuntata su Alessandra Petri a Chieti Emilia De Matteo sempre di Forza Italia è avvasto Enrico Di Giuseppe Antonio attuale segretario regionale dell'Udc per l'uninominale del Senato oltre ad Antonella Di Nino candidata anche nel prurinominale anche uno dei cosiddetti paracadutati Gaetano Quagliariello i capolista alla Camera sono Gianfranco Rotondi per Pescara Chieti Vasto e Paola Perino per l'Aquila Teramo al Senato invece Nazario Pagano anche in casa del PD i giochi sono fatti ma non sono mancati fibrillazioni e mal di pancia Camillo D'Alessandro torna in partita come capolista alla Camera per il collegio Pescara Chieti Vasto scalzando al fotofinish Lucia Annibali molto gradita a Renzi l'altro capolista è Stefania Pezzopane all'uninominale alla Camera i candidati sono Antonella Allegrino a Pescara Antonio Castricone a Chieti Sandro Mariani a Teramo Lorenza Paneia a L'Aquila e Marusca Miscia a Vasto al Senato confermati la civica e popolare Federica Chiavaroli per Pescara Chieti e l'ex sindaco di L'Aquila Massimo Cialente per L'Aquila Teramo Nell'istino proporzionale del Senato il capolista è Luciano D'Alfonso in quarta posizione all'ultimo è entrata l'attuale presidente dell'istituto zooprofilattico di Teramo Manola Di Pasquale nel Movimento 5 Stelle oggi Luigi Di Maio ha ufficializzato i candidati esterni al Movimento all'uninominale alla Camera ci sono Andrea Colletti per Pescara Daniele Del Grosso per Chieti Carmela Grippa per Vasto Giorgio Fedele per L'Aquila e Antonio Zennaro per Teramo al Senato uninominale confermato l'ex direttore del centro primo di Nicola nel collegio Pescara Chieti mentre all'Aquila Teramo correrà Emanuela Papola dopo le parlamentarie capolista alla Camera nel collegio 1 e Gianluca Vacca nel collegio 2 e Valentina Corneli al Senato il capolista e Gianluca Castaldi poche le novità negli altri partiti tra queste nel centro-destra ed in noi con l'Italia nel listino alla Camera il capolista Giulio Sottanelli mentre al Senato è Mauro Di Dalmazio ex assessore regionale nella giunta Chiodi in noi con Salvini invece tra i volti noti quello del sindaco di Orsonia Fabrizio Montepara al listino del Senato e del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma in entrambi listini della Camera c'è anche Luigi D'Eramo cambiando schieramento tra i civici e popolari della Lorenzin nessuna novità dell'ultima ora capolista del Senato è Federica Chiavaroli della Camera 1 e Lucrezio Paolini e del collegio Terramano Aquilano Giorgio D'Ignazio in liberi uguali c'è ancora l'eco delle polemiche per le candidature che avrebbero messo in secondo piano alcuni esponenti regionali come Gianni Melilla che sabato ha contestato apertamente le scelte del partito di Pietro Grasso che all'uninominale per Pescara ha scelto Ivano Martelli a Chieti Sonia Del Rossi a Vasto Giuseppe Marisi all'Aquila Luigi Fabiani a Teramo Stefano Alessiani in potere al popolo il candidato nel listino della Camera al collegio 1 e il segretario Maurizio Acerbo nel collegio 2 Silvia Frezza al Senato il listino è capeggiato da Marisa D'Alfonso per l'uninominale all'Aquila Alessandro Tettamanti a Teramo Roberto Degnetti a Pescara Franca Gallerati a Chieti Alessandro Faragalli e a Vasto Daniela Spadaro domani in una conferenza stampa a Pescara invece la lista insieme che vede Uniti PSI Verdi e Lista Prodi ufficializzerà le proprie candidature al plurinominale Chiudiamo l'ampia pagina almeno per il momento relativa alle elezioni vediamo le cronache dalle province siamo a Pescara la città da tre giorni con lo smonga le stelle le polveri sottili superano i limiti in tutte le zone controllate parla l'esperto rischi per la salute con concentrazioni così alte di smog andiamo avanti il giovane è ritrovato morto nella Pineta ieri sera è accaduto a Pescara nella Pineta al confine con Montesilvano un uomo a spasso con il cane ha segnalato il corpo che stava adagiato nel parco e poi ha chiamato i soccorsi è stata disposta l'autopsia e poi aeroporto d'Abruzzo c'è nebbia 159 passeggeri dirottati a Ciampino e da aprile voli per Malta e Varsavia dall'aeroporto di Pescara sia il mercatino nel tunnel di via Ferrari dunque il consiglio vara il progetto i senegalesi festeggiano Alessandrini impegno rispettato Forza Italia noi lo chiuderemo e dunque polemiche ovviamente tra maggioranza e opposizione poi a Milano sanità premiato il chirurgo pescarese di Credico proseguiamo energia elettrica scovati a lacci abusivi a Pescara blizza a Rancitelli centro scommesso e un appartamento rubavano corrente da un lampione e poi in basso la città ed il liceo classico ricordano il giudice Emilio Alessandrini assassinato nel 1979 papà dell'attuale sindaco di Pescara Marco Alessandrini allora possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri proprio in occasione della commemorazione del giudice pescarese Pescara ricorda il giudice Emilio Alessandrini a 39 anni dall'omicidio sindaco una cerimonia breve significativa perché è giusto non dimenticare e anche oggi come negli anni passati c'è stata questa importante partecipazione dei ragazzi delle scuole io penso che il senso della memoria appunto però poi non è il valore individuale di un figlio ma il valore collettivo di una piazza che si riempie di persone che sono le scuole che sono le istituzioni che sono i cittadini che passano qui per caso magari perché appunto la memoria è quello che io penso sia una specie di spina dorsale della nostra collettività perché se tu non sai la lezione di quello che è successo ieri è difficile che poi sia in grado di affrontare le sfide del domani e del futuro una lezione che voi tramandate ai ragazzi io penso che poi alla fine il senso migliore sia questo dopo la cerimonia con l'inno nazionale andremo in una scuola appunto a ricordare cosa sono stati gli anni di piombo in Italia cosa ha significato negli anni 70 il terrorismo in questo paese perché terrorismo è una parola che conosciamo oggi in una dimensione diciamo diversa da quella degli anni 70 il terrore globale il terrorismo internazionale gli attentati suicidi ma in Italia negli anni 70 c'è stata una guerra civile non dichiarata da una parte che voleva battere lo Stato a colpe di P38 e lo Stato ci sono stati 500 morti fra cui Emilio Alessandrini che era mio padre e ricordiamo quella stagione per evitare qualunque revancismo violento che possa così trovare terreno fertile in un momento in cui c'è certamente una grande crisi sociale ma in cui le risposte vanno date entro i binari della Costituzione della legalità della democrazia rappresentativa andiamo avanti pergamene di laurea pagate mai ricevute dall'università la denuncia di un geritore dopo un anno di attesa il professor Rea colpa dice della burocrazia ma ora sono pronte poi via Muzzi rinviata domani la protesta contro la pista ciclabile andiamo ancora avanti la Croce Rossa da Papa Francesco esperienza unica Roma i rappresentanti della sezione pescarese della Croce Rossa che sono stati ricevuti da Papa Bergoglio Montesilvano fiume come discarica saline sponde ripulite parte una diffida per i siti privati e poi edilizia scolastica viadda sei messi di lavoro per ampliare l'istituto Dezio marcia della pace con i migranti mille aspoltori il corteo è stato organizzato dall'arcidiocesi pescarapenne la giornata scandita da date e storie dei tanti rifugiati e poi città Sant'Angelo un consiglio comunale per via Colella siamo all'area metropolitana di Pescara Francavilla nuovo canile c'è il progetto sarà pronto entro l'estate e poi Tafferugli al Valle Anzuca ferita la madre di un giocatore in occasione di una partita giocata proprio al campo comunale di Francavilla e poi San Giovanni Teatino servizi gestione fallimentare la minoranza attacca l'esecutivo Marinucci sulle municipalizzate e ancora Francavilla rimborso per i libri di testo domande entro il 9 marzo siamo a Penne Marconi entro un mese i nuovi moduli scolastici illustrato lo stato dei lavori nello spiazzo del terminal bus Ambrosini Vicoli riaperta la strada franata un anno fa in basso all'anno da due mesi senza consiglio fattore a tocco dimettiti e poi Civitacuana contro un palo con la moto è grave centauro 25 anni fuori strada sulla strada 602 ricoverato in rianimazione all'ospedale di Pescara siamo alla pagina di Chieti la sentenza minaccia i vicini con il fucile condannato e poi due studentesse soccorse dai medici del 118 ambulanze al pomiglio e al corteo in centro gli rompono il naso a scuola esposto dei genitori a 8 anni finisce in ospedale dopo un pugno di due compagni l'episodio in un istituto del comprensonio frentano siamo all'aquila in particolare in questo caso però nella marsica buato nella notte assalto al benzinaio esplode cassaforte tre incappucciati portano via 15 mila euro si è rischiato lo scoppio dell'impianto GPL la titolare dice roba da far west e poi l'aquila palto mensa terremotati in 4 nei guai siamo alla pagina di Teramo tragedia all'ospedale Mazzini cade e muore sulle scale dell'ospedale la vittima è un uomo di Rocca Santa Maria che aveva appena fatto una radiografia scatta l'inchiesta il PM dispone l'autopsia e poi Val Vibrata arrivano le multe per i furbetti dei rifiuti Martinsicuro auto urta un ciclista e non si ferma e poi sventato un maxifurto da 170 mila euro la polizia stradale di Bologna arresta 4 pugliesi in un magazzino di prodotti alimentari in basso Isola del Gran Sasso e Castelli apparse nuove scritte contro i migranti siamo arrivati allo sport allora possiamo fermarci per qualche attimo e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine del messaggero il giorno delle scelte Chiodi e Di Stefano da Forza Italia esclusioni eccellenti vedete il titolo principale l'ex presidente della regione ripiega su noi con l'Italia resta senza seggio l'altro forzista al suo posto l'ex Renziano Martino e poi in basso Movimento 5 Stelle si insabbia con Ramiraglio Veri che non poteva essere candidato andiamo avanti vedete tutta la pagina dedicata ai candidati liste seggi collegi il risico nell'urna siamo alle cronache di Pescara rubavano la corrente scoperti e denunciati i furbetti del contatore questo è accaduto a Pescara operazione dei carabinieri e poi timbrava e andava al bar il vigile condannato a risarcire il comune in basso approvato il mercatino etnico sì a integrazione e legalità Piazza Unione il fascino cancellato dalla rotatoria da porta d'ingresso a Pescara Vecchia a snodo di smistamento dei flussi di traffico i commercianti e i residenti storici divisi tra la nostalgia e le difficoltà del presente poi in basso mai dimenticare cosa furono gli anni di piombo il figlio sindaco ricorda il giudice Emilio Alessandrini ricordo di Marco Alessandrini lo abbiamo ascoltato pochi istanti fa area metropolitana di Pescara siamo a Montesilvano Villa Falini il degrado avanza nessuna traccia del centro per anziani e poi Francavilla e Luciani Furioso finisce su un carro il caso Sirena al carnevale d'Abruzzo e poi ancora Montefilvano bonificate le discariche abusive lungo il fiume Saline l'incidente si schianta contro un palo grave un motociclista rimasto ferito a Civitacuana e poi Francavilla ferita gravemente allo stadio il sospetto dell'aggressione proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila un tesoretto di 35 milioni per rilanciare il capoluogo sono soldi concessi dalla regione mai spesi c'è il rischio di perderli finanziamenti per l'ex ospedale psichiatrico scuole piazza d'armi e contratto di quartiere e poi tempi stretti per la sicurezza della strada statale 17 siamo sempre all'Aquila e poi la carella aumento dei pedaggi autostradali il consiglio provinciale è contrario in basso sversa liquami nel terreno allevatore di maiali nei guai e poi inchiesta sulla ristorazione agli sfollati c'è questa inchiesta della Corte dei Conti la sezione abruzzese della Corte dei Conti siamo alla pagina di Avezzano sul Mona siamo nella Marsica d'Avezzano la banda dell'esplosivo assalta il distributore sventrata la cassaforte e poi luco dei Marsi ASL riparte il consultorio che serve quattro centri proprio dell'area marsicana siamo a centro pagina sul Mona anziana derubata caccia al ladro delle borse tagliacozzo appalti pubblici e guerra di perizie sul Mona rifiuti dopo l'avvio del porta a porta nascono discariche abusive giro di vite contestualmente spariti cassonetti della raccolta stradale e poi arrivi sondoli incendio di natura dolosa denunciato un settantenne siamo alla pagina di Chieti del messaggero licei dilaga la protesta vogliamo scuole sicure ieri 1500 studenti in corteo fra bandiere e fumogeni lieve malore per una ragazza sitine slogan ironico contro la provincia marzoli sono vicino alle loro richieste e poi cade il brodo bollente grave bimba di un anno soccorsa dai sanitari del 118 e poi vediamo un attimo di recuperare la pagina eccola qui andiamo avanti vediamo gli altri titoli massacra la madre a colpi di sedia e la rende invalida è accaduto sempre a Chieti e poi grave un anziano va messa investito da uno scooter siamo alla pagina che riguarda Lanciano Vastortona i sindaci sia al tribunale diffuso l'idea di menna e pupillo un unico palazzo di giustizia ma con due sedi presentata la proposta alla commissione ieri vi avevamo fatto vedere un servizio relativo a questo incontro che porterà poi ad un consiglio comunale straordinario a Vasto poi Lanciano telepass di tua usati a scrocco Martelli assolto in appello Vasto vigili niente stabilizzazione a fine mese sei unità in meno e poi ad Atessa la vertenza della Oniwell torna al ministero e poi costa dei trabocchi ampliare l'offerta turistica della via verde lo dice il sindaco di Fossa Cesia Enrico di Giuseppe Antonio siamo alla pagina di Teramo del messaggero svuotavano i depositi in manette tutta la gang l'operazione condotta dalla postrada di Bologna dopo indagini molto complesse in città il bottino è stato di 170 mila euro presi mentre svaliggiavano un camion e poi lavoro i sindacati master plan non crea occupazione e poi di Gian Camillo aveva già perso la moglie dopo il dopo tragedia i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare con le cesoie elettriche tra le lamiere si parla dell'incidente mortale dell'altro giorno in cui ha perso la vita Luigi di Gian Camillo morto domenica sera all'età di 49 anni in un incidente stradale accaduto lungo la strada statale 150 nei pressi del bivio di Contrada Villa Maggiore a Montorio Alvomano comune di Dalmazio tesse la tela Brucchi con Di Sabatino grandi manovre a Teramo in vista delle prossime elezioni amministrative per il dopo Brucchi siamo a una pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata tanti separati alla mensa dei poveri siamo a Giulianova la benefica istituzione voluta da padre Serafino assiste 30 persone e si aggrava la tipologia di quanti se ne servono Val Vibrata un monumento dedicato ai donatori di Sanco e Giulianova fumo in un locale multato il titolare in basso ancora in Val Vibrata vedete prostituzione furti arresti e denunce a Giulianova bloccato il lungomare traffico impazzito alba adriatica 2 milioni per la scuola media Enrico Fermi siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere invece le pagine che riguardano il quotidiano la città partiamo da pagina 3 cronaca regionale chiusi 4 chalet nelle stazioni sciistiche vedete il titolo principale carenze igieniche violazioni delle procedure mancanza di autorizzazioni nel blitz dei carabinieri del NAS nell'alto sangro e poi Rancitelli centro scommesso e condominio con gli allacci abusivi alla rete elettrica e poi post sisma la consegna della SAI ancora arenata a metà strada l'Aquila sversa i liquami dell'allevamento vicino ai map allevatore di maiali sorpreso dai carabinieri forestali a San Demetrio candidature cartello elettorale in chiave anti PD e 5 stelle siamo a parlare in questo caso delle elezioni di quello che è accaduto nel centro-destra l'asse quagliariello di Dalmazio e Sottanelli rimette in corsa chiodi alla camera tramite noi con l'Italia vedete foto e articolo delle candidature in chiave soprattutto teramana un'altra pagina con nomi e numeri delle prossime elezioni con i candidati delle varie coalizioni la coalizione di centro-sinistra quella di centro-destra e poi i 5 stelle e gli altri partiti siamo ancora alla cronaca Teramo muore sulle scale dopo un esame radiologico aperta doppia inchiesta di Asle procura il 56enne di Rocca Santa Maria lamentava dolori al petto e poi cronaca non ce l'ha fatta l'anziano salvato in casa dal poliziotto per tre giorni è rimasto con una gamba rotta andiamo avanti a teatro nessuna protezione per il parquet al pala San Nicolò continua a restare continua e restare nudo per l'allestimento degli spettacoli ancora notizie che arrivano da Teramo e dalla provincia in questo caso siamo a isola del Gran Sasso più controlli dopo le minacce e le svastiche la decisione del tavolo della prefettura all'indomani dell'evento di solidarietà e polizia a San Massimo e poi oggi a Cerchiara i funerali di Luigi di Gian Camillo non ci sarà l'autopsia l'agente di commercio morto nel frontale domenica sera Castellalto taglio del nastro per la nuova scuola antisismica giovedì l'inaugurazione della struttura di Petriccione che ospiterà 160 alunni siamo la pagina di Giulianova Mosciano tanti dubbi dalla CISL sull'unione dei comuni per il sindacato i dipendenti e le competenze degli asili non devono passare in mano all'ambito sociale poi Giulianova visita all'ambasciata Slovacca e poi Cronaca 31enne Giuliese denunciato per ricettazione nasconde una moto rubata il parcheggio conteso siamo a Roseto degli Abruzzi gli studenti restano senza punto di raccolta l'ex sindaco di Bonaventura attacca l'amministrazione PD le soluzioni c'erano ma sono state boigottate ancora Roseto in Curi abbandono nelle aree verdi della città nuove critiche all'amministrazione di Girolamo dal gruppo Roseto al centro restiamo a Roseto la procura chiede il processo per tre persone spacciavano droga ai giovani rosetani e utilizzavano il Felicioni per organizzare parti a base di stupefacenti in basso Atri accoglie il vescovo Lorenzo Leuzzi con più calore rispetto a Teramo il nuovo vescovo di Teramo ha visitato infatti la cattedrale inagibile promettendo il suo impegno per la ristrutturazione siamo alla pagina della cultura cosa mi piace di Arosio l'ironia giocando con Orlando Stefano Accorsi parla del monologo che porta in scena a Teramo e siamo alla pagina dello sport e parliamo proprio di Teramo perché è iniziata ieri l'era di Sandro Federico presentato il direttore sportivo già partito per Milano oggi arrivano Panico e Gondo Barbuti in partenza Altobelli va a Siracusa si lavora sul portiere ma noi andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio le parole le prime parole pronunciate dal Neo DS Biancorosso Sandro Federico Federico un matrimonio che alla fine si è fatto sì io col Presidente ho sempre avuto un buon rapporto quindi è arrivato nel momento in cui probabilmente è il momento giusto per entrambi in passato per un motivo per un altro non ci siamo non siamo arrivati ad una soluzione ma c'è stato sempre un grandissimo rapporto e quindi ben venga così insomma ecco subito al lavoro perché sono arrivati già San Domenico in arrivo Panico e Gondo un attacco praticamente ristrutturato sì perché siamo convinti che lì davanti bisognava cambiare qualcosa convinti io e il mister di avere attaccanti con caratteristiche diverse quindi anche più giovani perché con entusiasmo con voglia di emergere con voglia di dimostrare sono dei profili interessanti che probabilmente abbiamo avuto anche la fortuna di poter portare a termo per tutta una serie di motivazioni e quindi bene così insomma Barbuti sul mercato a questo punto stiamo lavorando per trovare una possibile soluzione che vada bene anche al ragazzo al procuratore quindi perché con l'arrivo di tutti questi attaccanti è ovvio che lui potrebbe anche avere meno spazio il mercato offre delle opportunità quindi può essere in qualsiasi reparto se esce fuori la soluzione giusta alle nostre condizioni si farà e servirà per puntellare questo organico che secondo noi è già un ottimo organico che ha bisogno solo di di scatenare qualcosa di diverso dentro di loro quindi devono metterci un po' più di 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 coraggio un po' più di entusiasmo nella voglia e nella volontà di vincere ecco la cosa importante è che con l'asse Federico Palladini a Teramo torna a esserci una sorta anche di sintonia tra direttore sportivo allenatore il che probabilmente negli ultimi anni è mancato credo che sia importante importante perché in un momento come questo dove mancano 15 partite avere già questo tipo di rapporto con l'allenatore credo che sia fondamentale ci permette di accorciare i tempi io so cosa ha bisogno Ottavio e mi rende il lavoro molto più facile quindi so le caratteristiche dell'allenatore so e conosco benissimo la squadra per averla vista più volte e quindi anche due giorni si può fare mercato e si può fare bene insomma non c'è problema queste le parole del nuovo direttore sportivo del Teramo Sandro Federico siamo al centro partiamo dallo sport nazionale fumata nera arriva il commissario in FIGC l'assemblea non elegge presidente nessuno dei tre candidati ovvero Gravina Sibilia e Tommasi la palla passa al Coni giovedì si terrà la giunta e ci sarà il commissariamento della FIGC Gravina dirigente abruzzese presidente della Lega di Serie C chiedo scusa agli italiani ma è un elettroshock necessario ha detto Gravina e poi andiamo a vedere invece lo sport di casa nostra partiamo dal Pescara ultimi due giorni di mercato dunque si attendono le ultime novità in casa delle formazioni abruzzesi intanto c'è Bunino per Zeman Embalo va al Brescia svanita definitivamente la trattativa per portare l'ormai ex palermitano in riva all'Adriatico il Delfino prende la punta dalla Juventus ovvero Bunino in cambio di Mancuso e poi i bianconeri lasciano l'ex Samb appunto il giocatore che vedete inquadrato nella foto Leonardo Mancuso in Abruzzo fino al 30 giugno Cellino strappa invece il sede il Palermo pagando 150 mila euro per il prestito di Carlos Embalo in arrivo al Pescara Fiamozzi e a Frosinone settore ospiti a 25 euro stangata per i tifosi biancazzurri prezzi alti nel nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone dove il Pescara giocherà sabato alle ore 15 e ieri si è giocato un posticipo l'unico posticipo della giornata in casa nel campionato di Serie B con il pareggio a suon di gol fra Ternana e Salernitana 2 a 2 il risultato finale con il vantaggio degli ospiti con Sprocati al ventesimo del primo tempo il pareggio della Ternana al ventitresimo della ripresa con Signori poi al quarantesimo della ripresa dunque a 5 minuti dalla fine il gol del momentaneo 2 a 1 per la Salernitana dell'ex biancazzurro Pucino e poi al quarantanovesimo dunque novantaquattresimo il gol di Montalto per il 2 a 2 finale e dunque Salernitana che sale a quota 30 in classifica Ternana che si porta a quota 22 vediamo altre notizie che riguardano il Pescara Proietti salterà anche la gara con il Frosinone anche ieri si è allenato a parte l'ex giocatore del Bassano mercato Lempoli su Gabriel Puskas Valnovara e poi qui Frosinone formazione Ciociara che affronterà il Pescara sabato prossimo ieri allenamento differenziato per Gori Crivello e San Marco e poi auguri a Marco Verratti perché è nato il piccolo Andrea secondo genito del centrocampista del Paris Saint Germain ed ex giocatore ovviamente come tutti sapete del Pescara Teramo ecco Federico qui serve entusiasmo lo abbiamo ascoltato qualche istante fa calcio a 5 europei al via l'Italia nelle mani del portiere abruzzese Mammarella Serie D Avezzano punta il terzo posto Vastese rischia l'aggancio il padrone marsicano Paris esulta avanti così gli aragonesi K.O. Ammatelica si interrogano sulla difesa poco attenta San Nicolò preso Paolillo dall'Andria e poi in basso eccellenza Caos arbitri Real Giulianova nel mirino Giancola dell'Aia dice da parte dei giuliesi polemiche sterili da evitare promozione Pontevomano sempre più in crisi Delfino Flacco Porto Pescara a tutto gas siamo alla pagina poi che riguarda il basket Roseto si gode di Buonaventura il primo passo per la salvezza l'ala ventene degli Sharks grande protagonista nella gara vinta contro Orzi Nuovi dedicato a mio padre che è allenato qui ora non fermiamoci mercato Le John e Brian lontani poi vediamo le altre notizie che riguardano in questo caso l'atletica leggera Montanaro e Giuliante bene ad Ancona e poi in basso Pallannuoto Serie A2 Pescara ciclo di ferro alle spalle prossima gara contro la Cessport poi rugby l'Aquila tratta il pilone Grant Mastro Rosa può andare a Biella andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero e poi chiuderemo con le prime tre pagine dei quotidiani sportivi nazionali partiamo dal Pescara Macinno Chei Juve su Mancuso arriverà l'attaccante Bunino in riva all'Adriatico scusate poi la primavera di Epifani scopre il nuovo Papu Cernaz giocatore arrivato Valentino Cernaz arrivato pochi giorni fa in Abruzzo e poi il basket di Serie A2 con Roseto che si coccola di Bonaventura Junior vittoria importante quella ottenuta contro Orzi nuovi dai Bianco Celesti e poi Campitelli apre a Candeloro Teramo presentato il DS Federico a questi giocatori serve quasi un papà oggi arrivano Panico e Gondo punte centrali Barbuti se ne va Altobelli al Siracusa e vedete questo titolo importante da sottolineare perché Campitelli apre ad un eventuale ingresso in società dell'attuale patron del Francavilla Gilberto Candeloro che proprio ai nostri microfoni ai microfoni di TV6 e della collega Ania Cantagani aveva parlato domenica in occasione della gara Francavilla Olimpia Agnonese proprio di questa trattativa che a questo punto è ufficialmente aperta e che è stata confermata anche dal presidente del Teramo Luciano Campitelli Rugby Rugby l'Aquila arriva l'inglese Grant questa notizia che riguarda la formazione aquilana la Serie D Avezzano una marcia in più nel girone di ritorno Biancoverdi che ricordiamo hanno battuto nell'ultimo turno la Vispesaro per 1-0 con un gol di Dos Santos 5 minuti dal termine poi l'Aquila Battistini è un gruppo esemplare la squadra sul campo ha sempre superato ogni tipo di avversità crisi a Pineto Amauro mette la rosa sotto esame dopo la sconfitta con il San Nicolò e poi vediamo le altre squadre di Serie D Francavilla in Serie Positiva Iervese lo avevo detto Iervese ospite domenica scorsa nella trasmissione l'abruzzo del pallone condotta da Jacopo Forcella poi Lavastese Colavito adesso basta regali agli avversari il tecnico Aragonese arrabbiato con i suoi per il primo tempo giocato a Matelica infine il Nero Stelladi stavolta un KO che la squadra Peligna non avrebbe assolutamente meritato poi il calcio a 5 sono 6 gli abruzzesi convocati agli europei Mammarella Calderolli Oliveira Lima e Murillo dell'Acqua e Sapone Ercolessi del Pescara debutteranno giovedì con la Slovenia andiamo a vedere le prime pagine per chiudere dei tre quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport Fiducia Milan Gattuso Cuore e Idee per tentare la rincorsa Milan che ha battuto nell'ultimo turno la Lazio Anzia Inter Giallo Icardi sui social sprint invece per Pastore Icardi che sui social avrebbe scritto qualcosa che farebbe pensare ad un suo addio e poi Malagol il presidente del CONI commissario fumata nera in FIGC sconfitta del calcio e poi c'è Atalanta Buffon 40 anni riscopre la Coppa Italia Quadrado si opera andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport ecco come usano il VAR prova TV per il gol di mano Cutrone a rischio squalifica e poi Rebus Icardi vi dicevo un messaggio su Instagram in cui parla di addio scatena il Putiferio il Real incombe e l'Inter trema in basso Juve di Coppa stasera la prima semifinale con l'Atalanta infine tutto sport Buffon voglio giocare ancora dice il portiere della Juve e della Nazionale poi vedete l'autogol FIGC giovedì arriva il commissario vittoria di Malagò elezioni flop con un nulla di fatto nella giornata di ieri e noi siamo davvero giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che tornerà domani alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia e vi rinnovo l'appuntamento per il prossimo per la prossima finestra informativa della nostra rete come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito